. Bentornati alla notizia di Grande Fratello Bip. Oggi con le ultime notizie l'ichè. Nelle ultime ore, Paolo Bonolis si è concesso a diversi racconti di sé e della propria vita. In uno, ha parlato anche di Sonia Bruganelli, parole taglienti. Se fino a qualche anno fa il suo principale lavoro si svolgeva dietro le quinte, dove era autrice e produttrice di alcuni dei programmi TV più seguiti come Avanti Un Altro, oggi la sua vita è decisamente cambiata. Dopo l'esordio al GF Bip come opinionista nell'edizione 2021-2022, Sonia Bruganelli non la ferma più nessuno e anche quest'anno è sulla tenutissima poltroncina, pronta a giudicare tutti i vipponi. Se sul lato professionale tutto sembra andare a gonfie vele, su quello personale invece ci sono alcuni stravolgimenti che fan preoccupare i fan. A parlare, però, è il marito Paolo Bonolis, le sue parole rivelano ciò che è davvero successo e, soprattutto, di chi è la decisione di quanto accaduto. Sonia Bruganelli, la decisione di cambiare casa, conduttore e mattatore TV, Paolo Bonolis nel corso degli anni ha fatto conoscere ogni suo lato. Se in TV emerge spesso e volentieri quello più ironico, al fianco dell'ormai braccio destro Luca Laurenti, in realtà dentro di se cela un mondo fatto di cultura, storia e filosofia. Autore di libri sul senso della vita e da sempre grande appassionato di questi temi, non si lascia mai sfuggire l'occasione per cercare un nuovo senso e per condividerlo con chi ne vuole. Nelle ultime ore, Paolo Bonolis si è concesso a un'intervista per Il Corriere della Sera, dove ha parlato della propria carriera e della propria vita privata. Impossibile quindi non citare la figlia Silvia, ormai 19enne, con danni motori e cerebrali dovuti a un problema in corso durante il nono mese di gravidanza della moglie Sonia Bruganelli. Non ho armi per affrontare quel che è successo, ha detto, dicendo che ciò che può fare è aiutarla e pregare chi non c'è più di farlo a sua volta. Durante l'intervista si è poi toccato il tema delle case. Recentemente, Sonia Bruganelli ha svelato di aver comprato una nuova casa, dove andrà a vivere. Bonolis non si è trattenuto ed ha ammesso, tra le righe, di non essere stato lui a pensare a questa decisione ma lei, non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria, ha detto, lasciando però intendere di aver subito questa scelta. Le case, comunque, disteranno solo 40 metri e saranno collegate da una porta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.